Ciao a tutti, sono Nell'Erfa e oggi mi trovo su Dreamlight Valley. Oggi andremo a completare la missione cena con un amico. Dunque, per iniziare ci serviranno gli ingredienti principali che sono i gamberi, quindi dobbiamo andare a pesca. Dunque, allora, per pescare i gamberi dobbiamo trovare le bolle, e vedete che sono queste qui. Ci sono le bolle di diversi colori, bianche che danno dei pesci comuni, poi quelle azzurre che sono queste qua, che danno dei pesci un po' più rari, e poi quelle arancioni o rosse, che sono rarissimi. Quindi, teoricamente, ho notato che le rosse danno sicuramente i gamberi, adesso le blu andremo a testare un po' cosa ci danno. Insomma, dovete trovare le bolle colorate per riuscire a tenere i gamberi. Ecco qua, allora, anche il blu ci ha dato il gamberetto. Comunque, ce ne servono due, quindi adesso dobbiamo andare a fare un giro e trovare il secondo gamberetto. Dunque, allora, andiamo a raccogliere queste qui, che sono le capesante, azzurre, che ci serviranno per la ricetta. Andiamo a dare qualcosa da mangiare a questo animale. E cosa si mangia l'alga? Ah sì, ecco, ci regalerà qualcosa. Ottimo, ogni volta che gli diamo da mangiare queste tartarugoline, ci regalerà qualche cosina. Dunque, se poi non avete i pomodori, si possono acquistare i semi alla bancarella, questa qui si ritrova sulla spiaggia. Dovete portarla però a livello 2. Vedete, sono qua. E andiamo a comprare un po' perché comunque ci serviranno. In realtà i gamberi li danno soltanto i posti dove ci sono le bolle blu, quindi li mette un po' complicato trovarli. Comunque, allora, la ricetta sono un gambero, due capesante, un pomodoro e una carota. Allora, un pomodoro, una carota. Queste sono le capesante, due. E il gambero. La cosa più complicata è trovare il gambero. Ecco qua la ricetta. Vediamo un po'. Oh, finalmente l'abbiamo fatta. Però vedete, è complicata perché ha 5 stelle. Dunque, allora, gli ingredienti sono questi qui che vedete. Bisogna farne due, comunque bisogna procedere di nuovo nello stesso modo. Ok, ragazzi, allora, oggi abbiamo finito qua con questa ricetta. Era per completare anche la missione di Pippo cena con un amico. Vi ringrazio di aver visto, seguiranno altri video. Intanto vi invito anche a consultare la playlist di questo gioco in modo da trovare tutti i video che vado a fare e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.